Ciao a tutti in questo nuovo video dove cerco sempre di nascondervi la stanza con scherzo risultati, si vedrà qualcosa però pazienza alla fine tanto comunque dovrete sapere com'è allora oggi siamo qui riuniti, c'è sempre il mio calendario di Jack Skeletron che sono solo lì, le mie prese, noterete che si, la mia stanza ha due colori vabbè, intanto dai vari video scoprirete sempre delle cose diverse io cerco di camuffarle proprio dopo spedano comunque poi la mia passazione sarà questa non è ancora finita, mentre vedrete qualcosa vi farò poi vedere tutto, nel video che uscirà questo video uscirà in modo straordinario di sabato, se riesco a montarlo, o di domenica, non lo so ancora comunque, e uscirà poi la settimana successiva di martedì sempre, aggiornamento sulla mia stanza ovviamente voi, per chi l'avrà visto, se non l'avete visto andatelo a vederlo, farò una playlist che si chiama appunto dalla mia, la, diciamo come si chiama, già, non mi vado più il mio progetto stanza, vabbè da zero accede da, da zero rifaccio la mia stanza da zero, non so perché da zero ce ne è dovuto in mente la canzone comunque, farò una playlist della mia stanza ovviamente poi ci metterò anche il room tour che farò ricordo sempre che lo farò in due parti uno è normale e uno in ASMR uscirà martedì, che sarà l'ultimo video che faremo io e il mio ragazzo, rispettivamente uno del mio canale e uno del suo dove spiegheremo come siamo andati avanti con il lavoro non lo portiamo troppo per le lunghe perché tanto alla fine poi vi farò le foto, le posterò su Instagram e poi farò il room tour ovviamente, ripeto, non è ancora finita del tutto la stanza però è vivibile perché adesso ho un po' rallentato perché mi mancano delle cose con il fatto che adesso, insomma, varie cose andiamo avanti allora, ho ordinato finalmente ce l'ho fatta purtroppo non sono riuscita a prendere la copia autografata con la dedica, purtroppo e anche con l'evento online di Shanti Life io adoro Shanti perché la seguo da tantissimo tempo da quando aveva un terzo degli iscritti che adesso, penso sì, forse anche meno mi è sempre piaciuto tantissimo come ragazza vi lascio sotto il suo link se non lo lascio perché sono rimambita ma spero di ricordarmi comunque penso, se no, la scena si chiama Shanti Life è fantastica io l'ho sempre ammirata per come parlava comunque di tanti tanti argomenti di psicologia di LGBT sessualità, tutto mi piace proprio come persona infatti io i miei youtuber li scelgo non tanto per quanto li iscritti potrebbero avere 5.000, 1.000.000 10.000, non me ne frega niente li scelgo per quello che mi trasmettono quindi ha scritto un libro ovviamente io mi sono illuminata allora, ho detto se riesco lo prendo il problema è che sono stata male proprio nel periodo in cui facevano la prevenita online di questo libro lo preordinavi della Mondadori e avevi l'autografo con la dedica sua e anche il biglietto online per poi partecipare a una live penso con lei non ho capito bene cosa in cosa consiste ma comunque il destino è voluto che è stata male e ovviamente non avevo soldi in banca e quindi ho dovuto metterli però comunque l'ho ordinato ho deciso di ordinarlo perché appunto da me non ci sono molte librerie e quindi comunque poi quando passerà questo periodo di M Shanti mi raccomando se stai guardando questo video so che non lo so se lo guarderai però ti prego fai un film a copie così almeno avrò la mia copia autografata e spero di avere una foto anche con te cosa che ci tengo a fare come avete capito questo è l'unboxing del libro di Shanti Live ormai penso di avere di ogni mia youtuber o youtuber preferito ho il suo libro non per fare la collezione dei libri dei youtuber ma proprio che ci tengo è come se avessi una parte di loro ovvero si sarà c'è una parte dove non c'è il tuo indirizzo di casa qui volevo aprirlo con voi quindi sono emozionata perché non l'ho ancora aperto è sigillato mi è arrivato dovevo arrivarmi lunedì ma mi è arrivato oggi che è venerdì quindi il video uscirà sabato domenica cerchiamo di aprirlo sono molto bravo di aprire le cose ve lo dico già visto che la settimana non sono riuscita a fare video smr e non riuscirò a farlo faccio uscire un video in più sul mio canale di Red Princess un po' di suspense mi hanno messo il contrario ma è lo stesso dovevo fare la foto comunque è bellissima mi piace un casino è bello anche così avete anche il nome lei è Shanti ti ho pure scritto il romanzo d'esordio della creatrice di Shant Lies mondo adori è bellissimo hanno preso una bellissima foto facciamo così no ovviamente non mi spoilerò niente me lo leggerò tutto ovviamente sì vabbè non mettiamoci a leggere comunque allora l'ho pagato un po' di meno rispetto all'altro che dovevo prendere perché ovviamente non c'era più il non c'era infatti la mia coppia non è autografata anche se controllo no mi dispiace purtroppo no anche se ci speravo che pure caso no non è autografata né niente è normalissimo tutto il resto però opto per farmi l'autografare Shant ci conto e niente comunque mi lo leggerò perché sono molto curiosa il mio cane sottofondo ci sta sempre e già ho scoperto il tuo cognome Shant da il libro scusate il mio cane sottofondo che sta rovinendo il video l'ho scoperto perché non ci ho mai fatto caso dal tuo Instagram e dal libro appunto che non lo sapevo è un cognome stupendo non so pronunciarlo non lo pronuncio perché non so pronunciarlo bene però è vero fantastico ci ho scoperto il cognome di molti youtuber grazie appunto ai loro libri o ai Instagram Lily non si può fare video in Instagram non ci ho mai perso comunque leggerò ovviamente il libro e poi quando avrò finito ci farò la recensione se anche lo avete acquistato e volete strozzare il vostro cane lo avete acquistato ditemelo sotto nei commenti e niente ovviamente termina qui il mio video unboxing ora facciamo un momento copertina con il pacco vuoto non so se farlo così è così più carino sembra che sorrida cioè così un momento copertina e ovviamente questo qua sarà invece la foto che metterò sui stand perché sono proprio bellissima così poi magari è meglio fare la foto normalmente perché con la mia faccia non è il massimo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ovviamente penso che vedrete la stanza come procederà nel prossimo video se non sbaglio e poi farò anche delle collaborazioni con delle ragazze più avanti e niente tutto qua ve lo solo anticipo anche queste cose qua io vi saluto scusami se non uscire il video smr purtroppo non sono riuscita a farlo però se riuscirò lo farò la prossima settimana perché ho avuto un po' sono stata male e adesso ho tante cose da fare e quindi non sto ancora totalmente bene e quindi momentaneamente non riesco a farlo però però le riferisco vi saluto e per chi non sapesse che ho un canale smr sotto c'è sempre il link lo lascio sempre andatevi a scrivere perché vi raccomando ciao e andate a votare il mio sondaggio che arriva alla fine del sondaggio andate a votare il sondaggio del giveaway se avete un giveaway dove regalo tre sponsorizzazioni andate a votare nella mia comunità ciao